D'Alfonso ripercorre le tappe salienti circa le vicende che hanno interessato e bloccato la nomina del direttore generale della Società di Gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, controllata dalla Regione. Luglio 2022, in seguito all'uscita del dirigente precedente, Ciarlini, si era chiesto all'Enac di potersi avvalere per soli tre mesi di una figura temporanea del nuovo direttore, richiesta reiterata a ottobre con il successivo avviso di selezione pubblica per il ruolo di dirigente generale e ancora il 2 febbraio 2023, poi ritirato. Di fronte al terzo rinvio segnato in calendario come il 26 aprile scorso, Enac avrebbe dato 30 giorni di tempo alla saga per decidere le sorti, trascorsi i quali sarebbe scattato il procedimento di revoca della concessione di aeroporto, un fatto che avrebbe rappresentato una gravità inaudita per tutto il territorio regionale e per il settore turistico. Secondo Luciano D'Alfonso, allo stato attuale l'aeroporto d'Abruzzo si troverebbe sfornita di una delle figure fondamentali per il suo funzionamento, poiché Ciarlini avrebbe concluso il suo mandato già il 15 luglio 2022.